Buonasera a tutti i SportMDF Channel, siamo qui al pre-partita Kaiserslautern Schalke 04 e il nostro amico Lino. Lino, pronuncio per la partita? Speriamo che vince, stasera siamo rimediati, abbiamo parecchie assenze però non ci fermeremo insomma cercheremo di portare avanti la partita e di portare a casa i tre punti. Grande, grande Lino, ottimo gruppo, sempre solidali con tutti quanti, quindi in bocca al lupo al Kaiserslautern, un saluto, a presto, buonanotte, ciao.